Compagnia dei Cavalieri Colle Paradiso è il titolo del libro scritto da Gran Maestro Emerito della Compagnia, Giuseppe Marini, che è stato presentato in diretta streaming il 30 dicembre nella Sala dei Vicari del Vescovado di Assisi. All'incontro moderato dal professore Carlo Menichini sono intervenuti alla presenza dell'autore il Vescovo Domenico, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il priore della Cattedrale di San Rufino, Don Cesare Provenzi, il professore Giovanni Zavarella e il Gran Maestro della Compagnia Guerino Merola. Il libro, ricco di immagini con un ampio repertorio fotografico, ripercorre i momenti fondamentali della storia della compagnia.